Tiziano, fammi dire una cosa, è importante che lo sport è terzo settore, lo sport sociale è terzo settore, il terzo settore non può fare a meno dello sport, lo sport non può fare a meno del terzo settore, vi sono dei passi che dobbiamo fare, poi tu che sei presidente di un'associazione sai quanto è intricato il rapporto con le SP, il mondo del terzo settore deve fare un passo in avanti, voi dovete farne uno, il discorso dei lavoratori sportivi va in questo senso e per noi è molto importante e poi è chiaro che ci deve essere anche il lavoro delle istituzioni, ma prendo nota con piacere che all'ultima riunione del Consiglio nazionale del terzo settore è stato istituito un gruppo di lavoro appunto per armonizzare questi argomenti e speriamo che quello porti frutti buoni. A te Tiziano, grazie. Grazie, grazie a te Giancarlo, buon pomeriggio a tutte e a tutti, un saluto particolare alla Vice Ministro Bellucci, cercherò magari di recuperare qualche minuto proprio perché siamo tutti nell'attesa di ascoltare le parole della Vice Ministro. Ti ringrazio Giancarlo per questo spunto che non è scontato, io faccio un ringraziamento ovviamente da presidente della WISP al Forum del terzo settore per l'organizzazione di questa giornata, lo faccio doppio come componente degli organi del forum, come componente del coordinamento dell'esecutivo e quindi in questo caso a Vanessa Pallucchi come portavoce per ringraziare tutte e tutti, colleghe e colleghi perché io credo che oggi non sia, come dire, non fosse scontato arrivare a questa giornata con questo focus, con questo diciamo carotaggio importante sullo sport. Forse solo pochi anni fa non l'avremmo fatto, forse Giancarlo solo pochi anni fa quella sottolineatura che tu hai fatto in apertura allo sport e terzo settore non l'avremmo ascoltata, avremmo ascoltato un'e congiunzione ma non un'e diciamo verbo affermativo. Questo mi fa enormemente piacere, non vado diciamo con le elencazioni del valore sociale dello sport in cui ovviamente credo fermamente partendo soprattutto dal sottolineare quanto sia veramente oggi un giacimento di partecipazione di democrazia. Mi sarà concesso un passaggio perché credo che l'attualità di questi giorni lo chieda proprio appunto all'attualità di un importante risultato che abbiamo avuto, un risultato sicuramente storico, quindi l'ingresso dello sport, dell'attività sportiva in Costituzione. Come sapete tutte e tutti pochi giorni fa il Parlamento in ultima lettura ha approvato la riforma costituzionale, quindi abbiamo un nuovo comma all'articolo 33 e quindi quelle tre righe veramente pregnanti di significato, ossia la Repubblica riconosce il valore educativo e sociale di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme. Se ne è parlato tanto le associazioni come la WISP che in questi primi diciamo 75 anni di vita nel caso della WISP, quindi un percorso a braccetto con la Costituzione, abbiamo di fatto da sempre lavorato per arrivare a questo riconoscimento, un riconoscimento importante ovviamente come ha detto anche lo stesso Ministro per lo Sport, i giovani Andrea Abodi, ora come dire c'è da riempire di contenuti quel riconoscimento, c'è da lavorare tutte e tutti insieme, a maggior ragione con ovviamente la visione del terzo settore. Sicuramente abbiamo bisogno che questo momento storico veda Parlamento, Governo in testa per andare a rafforzare quel rapporto importante con noi corpi intermedi sociali, con in questo caso il forum, il centro di servizi, i corpi intermedi di rappresentanza per rilanciare un rinnovato impegno con l'obiettivo che questa cultura sportiva motoria, quindi una cultura sportiva motoria che vada oltre il mero esercizio fisico, quello che per tanti anni abbiamo come dire visto fuori dalle nostre associazioni all'interno del sistema sportivo più istituzionale olimpico come ecco attività competitiva che per carità è importante ma soprattutto oggi parliamo d'altro, parliamo di sport sociale, parliamo di sport come diritto di cittadinanza, parliamo di sport come strumento di inclusione e di coesione. Mi permetto come dire di andare oltre quindi la presidenza della WISP e quindi per il ruolo che ho nel forum di sottolineare come con tante organizzazioni, di fatto noi siamo associazioni di promozione sociale, anche enti di promozione sportiva, quindi nella filiera del riconoscimento coni, ma rappresentiamo tutte oltre 8 milioni di persone, di praticanti l'attività sportiva, quindi la maggioranza proprio anche delle persone che ad oggi sono in questo sistema diciamo istituzionale praticano attività sportiva. Oggi lo facciamo con una responsabilità in più, quella diretta associativa, perché le associazioni sportive nazionali non dimentichiamoci sono fra proprio le più grandi anche da un punto di vista quantitativo numerico del nostro paese. Abbiamo un percorso lungo come terzo settore che sicuramente grazie al codice del terzo settore e alla riforma ci ha fatto passare da un regime concessorio finalmente a un regime di pieno riconoscimento appunto giuridico. Quella lettera T dell'articolo 5 è stata anche diciamo una conquista, quindi l'esercizio di attività sportive e delle tantistiche e la portiamo avanti con tanti altri impegni che le nostre associazioni hanno. Quindi assolutamente sport e terzo settore c'è un tema su questo vado vado veloce perché l'impegno come dire di questi anni è stato è stato tanto sempre nel rapporto con le istituzioni. Io su questo faccio un ringraziamento non di circostanza, ho avuto modo di farlo in altre occasioni alla Vice Ministro Bellucci, alla Direzione Generale del Ministero del Lavoro perché anche in quest'ultimo anno si è fatto tanto, si è fatto molto lavoro su quel percorso di armonizzazione che noi chiedevamo con forza. Lo sport e terzo settore lo diciamo oggi ma potremmo dire che fino a pochissimi anni fa anche nel pieno già dell'avvio della riforma sembravano il mondo dello sport diciamo dell'afferente al sistema sportivo del Comitato Olimpico e quello del terzo settore erano due corpi che non si toccavano anzi c'era quasi come dire un percorso per cercare di allontanarli ancora di più. In tutto questo ovviamente c'è quello e non ripeto quanto hanno già detto colleghi di tutto quello che dobbiamo ancora portare a casa in termini di maggiori attenzioni dal punto di vista dell'armonizzazione normativa legislativa, dal punto di vista delle semplificazioni, dal registro e noi in questo caso sottolino sportive ci aggiungiamo la complicazione del registro, delle attività sportive, delle tantissime dei registri ma anche qua un dialogo nuovo fra Di Castello per lo Sport e Ministero del Lavoro ci ha messo nelle condizioni di fare già in questi mesi molti passi in avanti. Il tavolo che citava Giancarlo Moretti poco fa che è stato istituito proprio in seno al Consiglio Nazionale del terzo settore di pochi giorni fa e mi onoro di poterne far parte anche per questo ringrazio la Vice Ministro, terzo settore sport sicuramente potrà portare un impulso ecco operativo mettendo insieme esperienze più politico associativi e complessivi e anche esperienze grandi competenze e tecniche. Abbiamo bisogno e dobbiamo continuare nel nostro dovere di rappresentanza a stare vicini sempre di più alle associazioni, alle società sportive, agli enti del terzo settore e del territorio che vivono quello che abbiamo condiviso oggi. Abbiamo bisogno io credo di arrivare ad una vera e propria io la definisco così emancipazione dello sport di base, dello sport sociale, abbiamo ancora tanta strada da fare sulla rappresentanza soprattutto all'interno del mondo olimpico. Abbiamo bisogno di sicuramente si parlava oggi di legge di bilancio siamo come dire tutti i cittadini responsabili e conosciamo la situazione che si trova per le mani il governo ma noi da anni lo ribadiamo e ovviamente l'occasione per me è ghiotta di rifarlo oggi necessità di una attenzione diciamo strutturale strutturata anche pluriennale che metta nelle condizioni i nostri dirigenti, i tecnici, i nostri lavoratori, le nostre lavoratrici di poter come dire programmare al meglio il lavoro dello sport di base di tutti i giorni nelle nostre periferie, nelle nostre città e chiudo con un altro punto di attualità, scusami Giancarlo rispetto alla cruda e brutta attualità anche di queste ultime settimane, il caso di Caivano ma cito Caivano come esempio perché lì associazioni come la WISP in questo caso col sostegno di Fondazione con il Sud lavorano da tempo nella quotidianità di quel quartiere ma ovviamente come accade in tantissime altre realtà del nostro paese. quindi riparta da oggi anche uno slancio di fiducia nei confronti dell'associazionismo ovviamente con, lo sappiamo, responsabilità grandi sulla coprogrammazione e sulla coprogettazione al fianco ovviamente delle istituzioni. Grazie. Grazie.